e in avvio velocissimo dall'esterno Redford TRGF che cerca di conquistare il comando si oppone Redmile Font, due alle prese mentre all'interno c'è Rajah Ors superata da Redmile Font che conquista la testa Redford TRGF, può accodarsi in scia e lo fa dopo 150 metri gli altri più indietro intanto 200 iniziali in 14 secchi per Redmile che guida su Redford poi Rajah Ors, ancora Riù della Luna, gli altri 400 iniziali completati in 34, rimasti invece subito out Ragusa Jet c'è la progressione esterna di Riù della Luna che è seguito da Rolex Winner e Rebecca Laser i 600 vanno via per Redmile Font in 47,2 secca stoppata in curva, 16,8 in parziale e ora davanti alle tribune, situazione tattica che si è delineata con Redmile che conduce Riù della Luna si adegua all'esterno, alla corda c'è Redford TRGF all'argo anche Rolex Winner seguito da Rebecca Laser chiudono Rajah Ors e Rio Murtas lungo la corda 1, 2, 4 il passaggio agli 800, ancora non allunga Redmile Font che all'esterno Riù della Luna che a sua volta accetta il ritmo imposto dal battistrada 1, 17,5 il passaggio al chilometro Redford TRGF sempre di scia con all'esterno Rolex Winner dalla coda cerca di muovere Rebecca Laser a 450 dal palo che costringe i primi due a cambiare marcia 14,6 parziale, viene cattiva Rebecca Laser in terza ruota ultimi 300 di gara con Redmile Font in vantaggio all'esterno Riù della Luna e Rebecca Laser che spinge completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Redmile Font in vantaggio, Riù della Luna che ce li prova Rebecca che si lancia all'interno, nel finale Redmile Font in vantaggio non si lascia più raggiungere la vittoria in percorso di testa di Redmile Font e Roberto Vecchione secondo posto per Riù della Luna al terzo Rebecca Laser 1, 15,3 con 29,1 per l'ultimo quarto Roberto Vecchione e Olga Lerl t'assegno con percorso di testa di Redmile Font quota di 3,62 il totalizzatore